Ministro, è arrivato il momento di dirci la verità, o meglio, io voglio dirle la mia verità, il mio punto di vista, non vale niente, però è un punto di vista di una persona che si è trovata a fare l'insegnante per necessità e che da 15 anni lo fa con estremo impegno, come tutti, del resto. Beh, chi più chi meno, ma questo è ovvio, no? È giusto che lei adesso assuma le persone che hanno seguito e che hanno vinto i concorsi, che sono abilitate, che sono specializzate, è giustissimo questo, però poi, Ministro, cambiamo, cioè diamo alla scuola una ventata di aria nuova, perché c'è bisogno di insegnanti con empatia, che non vadano lì a cercare la propria affermazione, ma che siano lì per i ragazzi e l'affermazione la trovano da qualche altra parte, cioè non deve essere un modo la scuola per trovare spazio del proprio ego, capisce? Cioè, i concorsi, così come sono fatti, vanno a testare delle informazioni e delle conoscenze che abbiamo già fatto durante gli esami dell'università. Se non va bene quello che abbiamo fatto durante l'università, rivediamo i programmi, però nel concorso deve essere testata anche la capacità di interagire, la capacità di comunicare, la capacità di essere lì per gli studenti, la capacità e la voglia che gli studenti raggiungano i loro obiettivi. Non so come si possa fare, però lei di sicuro lo potrà fare e lei di sicuro avrà un modo per poterlo fare, perché capisce, noi precari siamo sempre utili, cioè siamo sempre pronti a giugno a dire arrivederci ai nostri colleghi, chissà se ci vedremo a settembre, a settembre, ottobre, novembre, insomma, quello che è aspettare il nostro momento per poter prendere il nostro posto e abbiamo sempre anche dato la nostra disponibilità a fare andare avanti gli esami di Stato, quindi ci siamo assunti anche delle grandi responsabilità. Sentirsi dire che non siamo idonei per l'assunzione fa un po' male, perché o siamo idonei sempre o non lo siamo, cioè o adesso possiamo rientrare anche noi della seconda fascia in un percorso di assunzione come hanno proposto tutti i sindacati, credo, no? E ci sono anche dei partiti politici che lo hanno fatto. Quindi entrare in questo percorso dove noi ci formiamo, prendiamo un anno, teniamo conto di tutti gli anni in cui noi siamo stati a servizio dello Stato e in quest'anno ci formiamo. Alla fine faremo un esame, se va bene possiamo restare, se non va bene o ci riproviamo oppure ci dite guarda l'insegnamento non fa per te. Occorre un po' di chiarezza, occorre un po' di onestà, perché altrimenti rischiamo di sentirci un po' insegnanti usa e getta e non è bello questo. E qualcuno può perdere anche la voglia, sinceramente. Parlando poi del sostegno a questi ragazzi a cui la vita, insomma, non ha dato molto e non hanno una vita come tutti gli altri ragazzi, non possiamo assicurare almeno a loro la continuità didattica? Cioè che se si trovano bene, se un insegnante di sostegno riesce a entrare e a creare questa alleanza tra la famiglia e la scuola perché non può restare? Perché non può accompagnare questo ragazzo fino alla fine? Io ho il terrore, ma veramente, ho il terrore e anche sono emotivamente provato a pensare che ad ottobre o a settembre quando ci saranno le nomine, il mio ragazzo che ho accompagnato per quattro anni va dalla maturità con qualcun altro perché io di lui so tutto. Ho preso parte a cerimonie molto intime della sua famiglia so quali sono i suoi problemi al di là della scuola e conosco anche le sue capacità, le sue potenzialità ma non perché io sono un eroe, semplicemente perché ho avuto il tempo di capirlo e se a settembre arriva qualcuno che non lo conosce come potrebbe sentirsi questo ragazzo andare alla maturità con qualcuno a fianco che non conosce? Ci pensi ministro? Veramente glielo chiedo con tutto il cuore e cambiamo questa scuola io, se lei vuole cambiare questa scuola, io e tantissimi altri ci siamo non basta più la conoscenza per fare l'insegnante, non basta, non basta serve l'empatia, serve l'entusiasmo serve la voglia di fare emergere i valori di questi ragazzi serve la voglia di farli sentire che ce la possono fare non dobbiamo distruggerli, dobbiamo creare il loro futuro dobbiamo dare loro la fiducia loro devono vedere in noi qualcosa di esempio e solo così si potranno formare ministro, io confido veramente in lei magari questo messaggio non l'arriverà nemmeno o magari, non lo so però dovevo farlo, perché era tanto tempo che volevo farlo aspetto, aspetto come tutti gli altri che il mio impegno verso lo Stato di anni non venga proprio non considerato ma venga almeno così mi sia dato una possibilità grazie ministro se per caso è arrivato fino ad adesso cioè se per caso ha visto il mio video e se per caso è arrivato fino ad adesso io la ringrazio per tutto quello che potrà fare per la scuola e per gli alunni soprattutto perché sono loro il motore di tutto grazie